Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. La procura di Vibo Valencia ha avviato un'inchiesta sulla morte di Fabio Cisotto, un 54enne romano deceduto nel pronto soccorso dell'ospedale di Tropea, Calabria, a seguito di una grave crisi respiratoria. Il caso, al momento senza indagati, potrebbe evolvere dopo l'autopsia disposta dal PM Corrado Caputo e prevista per oggi al Policlinico di Catanzaro. La procura ha incaricato il professor Pierantonio Ricci e il medico legale Giovanni Gallotta, mentre l'abbocato della vedova, Francesco Rombolà, ha scelto l'anatomopatologa Catiuscia Bisogni. Ci vorranno almeno 75 giorni per ottenere i risultati dell'esame istologico. Cisotto, in vacanza a Tropea con la famiglia, si era sentito male nel pomeriggio, lamentando un forte mal di gola da un giorno. Dopo un'iniziale rassicurazione del 118, è stato portato al pronto soccorso alle 15.30, dove le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, portandolo alla morte per shock anafilattico. Si sospetta che un farmaco antinfiammatorio, assunto prima dell'arrivo in ospedale, possa aver scatenato la reazione fatale, a causa di una possibile allergia non nota. La moglie ipotizza che ci sia stata una sottovalutazione del problema da parte dei sanitari. L'autopsia chiarirà le cause esatte del decesso e le eventuali responsabilità.